sconfitta di Perugia nella Supercoppa Italiana. La squadra bianconera è stata superata da Modena al tie-break. Antonello Brughini. Comincia malissimo la stagione di Perugia che riesce nell'impresa sconfortante di perdere la quarta finale e stavolta sembrava veramente tutto fatto. Al quinto set contro Modena la squadra perugina va al cambio di campo in vantaggio di 5 punti che nella pallavolo sono tantissimi, 8 a 3. A quel punto accade qualcosa di inaccettabile come ammette lo stesso presidente Gino Sirci a dir poco arrabbiato. Francamente diciamo ancora una seconda volta ripetere così dopo quattro mesi con una squadra ancora più forte è ridicolo. Podraskanin, Birarelli e Zaitsev subiscono il ritorno nemmeno tanto rabbioso di Modena. È un tie-break da incubo. Perugia lascia all'iniziativa gli avversari che sorpassano e arpionano la Supercoppa italiana. E così anche la quarta finale, due per lo Scudetto e una per la Coppa Italia, fa piangere la Sir. Una mazzata per i quasi 400 tifosi bianconeri, loro sì, molto bravi, che hanno animato il palapanini. Perché? Perché questi crolli a livello di concentrazione? Perché questi finali di partita gestiti male? Domande alle quali dovrà dare subito una risposta Boban Kovac, anche lui deluso. La bacheca della Sir Safetikonad resta vuota, la prima occasione sfumata. E domenica il via al campionato con la trasferta di Perugia a Piacenza. Ci deve servire da lezione di pensare a fronteggiare questa situazione. Perché vedo che questa situazione è il nostro, praticamente, tra l'uomo di Achille.